è vero bello questo posto ah una scaletta neanche mi pare vero è uno spettacolo sto posto come li trovi? guarda prendi un bel barracuda sarebbe anche ora e sarebbe assolutamente giusto prendere un bel barracuda magari un big così io la butto lì mi sa che è il posto giusto per sfoggiare il mio momotti 190 sono avanti ok 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 ce l'ho ok 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 C'è l'ho! C'è l'ho! E' un barracudino, un barracudino piccolo, un aluzzo più che un barracuda. Buono 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 bu piccolo piccolo mi raccomando torna quando sei tipo 3 kg più di più ciao bellissimo bene allora pescata finita da questo posto meraviglioso che mi ha fatto conoscere l'amico diego che mi guarda in cagnesco da dietro la telecamera che mi ha fatto conoscere questo posto incredibile che è una di queste bellezze naturalistiche che abbiamo in sicilia e che è stato anche fructuoso perché ha portato la cattura anche di questo piccolo bel barracudo piccola luce insomma quello che io vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine iscrivetevi commentate e ci vediamo alla prossima pescata alla prossima tu vuoi dire qualcosa grazie Grazie a tutti.